E' verità, universalmente riconosciuta, che Giorgia Meloni abbia un piccolo problema di classe dirigente. Da due anni gli oppositori si sforzano di trovare una parola per definire i collaboratori, diciamo così, meno affidabili della Premier. E ieri questa parola è saltata finemente fuori. E il bello che a dirla è stata proprio Giorgia Meloni. Racconta infatti il Fatto Quotidiano che nella giornata di ieri i capigruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia hanno scritto sulla chat del partito Attenzione, martedì 8 ottobre alle 12.30 è indispensabile la presenza di tutti i parlamentari in aula per votare il giudice della Corte Costituzionale. Pochi minuti dopo quel messaggio finisce sui siti. E la Premier si arrabbia. O se si arrabbia. Alle 16.17 scrive nella chat Io alla fine mollerò per questo. Perché fare sta vita, per eleggere sta gente, anche no, l'infamia di pochi, l'infamia, mi costringerà a non avere più rapporti con i gruppi. Interviene il ministro della difesa, Crosetto. Beh, lavorandoci un po', gli infami o l'infame si trova. E la Meloni aggiunge però, amara, c'è gente che per una citazione sul giornale si vende la madre. Detto questo, mi taccio prima che esca qualcosa, pure da qui. Ops, troppo tardi, è già uscito, visto che l'abbiamo letto. E quella parola, infami, diventa il titolo. Certo, dare dell'infame a uno o più dei fratelli d'Italia è davvero un'accusa molto pesante. Ma d'altronde, chi siamo noi per contraddire un Presidente del Consiglio? In collegamento da Milano, il nostro canto...